Musica Eeeh ciao a tutti ragazzi e benvenuti nello spazio Benvenuti sul canale di Mujahideen, ultima notizia dei bani napoletani Qui su Osiris New Dawn Ragazzi, bellissime novità, grandissime novità Il gioco sta andando avanti Ci sono molte news Tra cui nuove hotfix che hanno visto praticamente vari aggiustamenti particolari Belli, perché anche se abbiamo perso come al solito il salvataggio non c'è più Eeeh ragazzi, è un po' così Però ci vede praticamente, adesso inizieremo tutto da capo Ma ci vede con nuove cose divertenti Come la raccolta dei materiali molto più complessa Molto più difficile da fare Eeeh, devo dire la verità Mi è piaciuto molto questa cosa Eeeh, devo dire veramente Veramente molto bella Perché il materiale prima veniva fuori troppo facilmente Adesso in sostanza hanno messo a posto tante cose E devo dire veramente bella Ma tra l'altro posso cambiare anche i led Mi piacciono sì Voglio i led rossi Così Pure azzurrati Ah, ancora più figo azzurrati Tutta bianca candida Che poi tanto si sporcherà Come non mai Mujedin il nome Creiamo il personaggio Universo Eeeh Così Manca farlo apposta Eeeh Private universe Sì Adesso siamo in modalità PVA Non possiamo selezionare niente Infestati No assolutamente Direi Pericolosi Ma no infestati Cioè Non ci danno tregua A fare le cose Io direi Pericoloso Va bene Eeeh La quantità di risorse Mh Va bene Normale Se no facciamoci normale Infestato Proprio C'è roba che ci romperà Attack Damage Tutto Vizio Vizio A massimo Alien E Hilt Va bene Normale Va bene ragazzi Andiamo a vedere Dove siamo finiti Iniziamo questa nuova partita Create Ok Purtroppo i salvataggi Non erano compatibili Quindi dobbiamo iniziare Tutto la capa Speriamo che esponiamo In un punto giusto Punto figo Un punto bello Proprio per Eeeh Per iniziare a fare Questa nuova avventura No sono molto fiducioso Di questo gioco ragazzi Perché ho visto che Parlano che Faranno tantissime cose Come dei Dei veicoli Che ci permetteranno Di spostarci Nell'ambito del pianeta Addirittura Arrivato a un certo punto Le tecnologie saranno Talmente vaste Amplie Che possiamo addirittura Cambiare pianeta Uscire fuori dall'orbita Di questo Proteus 2 E Sarebbe veramente Interessante la cosa Veramente molto molto carina Io non vedo l'ora Sinceramente Ehm Allora Chissà Dove siamo Sponati Vediamo un attimino Ecco qui Siamo già messi Manissimo Insomma Ok Usiamo lo scotch Per poter Diciamo Tappare la nostra La nostra Tuta Allora Qui c'è il nostro Robottino Ok Ripariamolo E diciamo Di Venire con noi A questo punto G Seguici Ok Perché sei Un ottimo amico Fidato Tra l'altro Qui vicino Dovrebbero esserci Le nostre Ehm Ecco I nostri Rifornimenti Ok Abbiamo Il medikit Molto bene Ok E abbiamo Abbiamo Ecco qui Munizioni Molto molto bene Ok Prendiamo tutto Tac 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 Ci mettiamo la pistola Come componente Primario Mitragliatore Va bene Ok E seguiamo Cerchiamo il Kid Survivor Ed è qui Proprio vicino Siamo stati molto Fortunati Una delle partite Che avevo fatto Era finito Quasi dentro Una roccia Non riuscivo a Trovarlo in nessun Modo Ok Direi che Ehm Non è male Ragazzi Questo Questo Posto Io direi Quasi quasi Mettiamo Costruiamo Il nostro Building Frittal Dome La nostra Tenda Spaziale Io non so Come definirla Io La farei Proprio qui Sì Abbiamo la possibilità Di creare Quindi la struttura Con questo Speriamo Non sia andato In crash Ok Non si era Un attimino Stava pensando Ok Allora Mettiamoci in fondo Che poi Qui davanti Volevo mettere Altre strutture Ok Mettiamola proprio qui Ok Mettiamo E' bello Questo gioco Ragazzi Ho una grandissima fiducia Spera sinceramente Che le cose Vadano Per il meglio Allora Ok Ci siamo Siamo qui Ok La prima cosa Che ci dice Vai all'interno E salva Mi sembra Una cosa Buona E giusta Benissimo Ragazzi Abbiamo salvato E adesso Pensiamo Un attimo Su quello Cosa dobbiamo Fare E ok Ragazzi Va bene Direi Di andare A prendere Un po' Il materiale Perché dice Cerca I materiali Per costruire Un deposito Ok Il deposito Se non sbaglio Allora Nelle utility Dobbiamo vedere Questo caricamento Degli vari slot Non so Se all'inizio E poi dopo Ma hanno cambiato Anche l'icone Molta roba Noi so Ok Dobbiamo fare 20 di ferro E 20 di alluminio Dobbiamo trovare Va bene Che ben venga Vediamo un attimino Quindi vi stavo dicendo Che Il tutto è diventato Più complicato Ragazzi Tutto più Difficile Da Da fare Guardate Vi faccio rendere conto Adesso Vedete Non vengono I pezzi subito Ma Bisogna Lavorarci un po' Cioè Non Io preferisco così Allora E' molto più difficile Ma Dà un senso di progressione Più appagante Perché prima Veramente La roba Si smasciullava In un decimo di secondo Quindi Non è che Mi piaceva Poi hanno aggiunto Anche nuovi materiali Guardate Materiali base Queste rocce così Che senza colore Ma che hanno Contengono comunque Contengono dei materiali Sia base Che poi anche preziosi Poi dopo vi faccio vedere E' interessante Questa cosa Veramente Molto molto interessante Ragazzi Scusate se Ci ritroviamo a fare Purtroppo la stessa cosa D'altra volta Però E' cambiato in sostanza Tutto Perché anche Sono stati inseriti Molto molto più animali Eccoli qui Questo Specie di Di schifo qua Ok Attacchiamo Prima noi Prima di essere attaccati E comunque Adesso è molto potente E sta Sta pistola Veramente Dovrebbe essersi Spaventato Credo No Non proprio Va bene Ce ne freghiamo Noi nel frattempo Noi continuiamo a fare Il nostro lavoro Perché dobbiamo Costruire Il prima possibile Ok La progressione Ok Vedete E' molto più Complicato il fatto Dov'è il nostro lavoro Ok Allora Vediamo un pochino Abbiamo 8 E vedete Tutto che abbiamo raccolto La cina non era Tutto sto granché Quindi adesso Riempiamo il robottino Così andiamo sempre vuoti Noi sia il ferro Che l'alluminio Ok Quindi dobbiamo trovare Altro ferro Ragazzi Altanto altro ferro Che cosa c'è Wow Wow E' ancora quella bestiaccia E' anche quello grosso E' meglio attaccare per primi Perché Ok Va bene Non me ne frega un cazzo Perché Sinceramente Non voglio passare per il cattivo Della cosa Però Questo cos'è Carbone Vabbè Andiamo Andiamo giù di carbone Prendiamo tutto quello che è possibile Tanto poi Se lo conserviamo nel deposito Sappiamo che alla fine Ci ritornerà tutto Tutto utile C'è poco da fare Anche se Ci dobbiamo dare degli obiettivi Mano mano Perché veramente E' un sacco di cose Da fare Bello Il sistema di progressione Mi sta piacendo molto E ho capito Un sacco di cose Ragazzi Veramente Molto molto figo Io direi di lasciare Per adesso Il magnesio Lì Dov'è? Ecco E' stato attaccato Il robot Chi è? Chi è? Non mi dire che è qualcosa Grosso E' fatto E' messo a sparare A qualcosa Grosso Perché Ti prendo veramente A randellate Sui denti Vi ricordate L'ultima versione L'ultima volta L'avevo chiamato G15 E lo chiamiamo Proprio così Adesso Dopo lo rinominiamo Subito E vediamo un attimino Se viene fuori Del ferro Sarebbe una cosa Bella Sì Ecco Ce lo sono chiamati Anche se Devo dire Siamo stati un po' Poveri di ferro Cavolo Dobbiamo stare attenti Ok Andiamo Lì sotto Quell'albero Credo che ci sia Del ferro Forse Robottino sta venendo Che è la nostra vita Cioè Senza robottino Non facciamo niente Ragazzi E' preziosissimo Ecco Vedete Prezioso Ultima parola che avevo detto Anche a farla apposta Vedete che adesso Ci sono anche Queste altre Tipologie Prezioso Metal Non base E da questo Vedete Viene fuori il titanio E altri elementi Che sono Copper Vedete E' una figata Veramente Cambia tutto il gioco Perché in sostanza A parte il fatto che non si vede Devi stare più attento Alle cose Quindi Mi piace Mi piace un casino Ancora metalli Preziosi Voglio prendere il ferro Porca miseria Ma non lo riusciamo a trovare Level up Ancora Ci sarà anche la possibilità Di distribuire dei punti Quindi Veramente molto Molto Per Aia Che succede Chi è che ci ha Fatti questo Questo male Così Incredibile Che cazzo è sto cosa Avete visto Un nuovo Tipo di nemico Credo sia Avete visto Quello affare Com'era Veloce e cattivo Ok Ok Andiamo avanti Nel Cercare Nuove cose Andiamo da questa parte Dobbiamo assolutamente Trovare Nuovi materiali Dovrebbe esserci qualcosa Qui Ecco Quello lì credo sia Base Metallo base Ok E qua c'è tanta roba Ok Forse ci va bene Passiamo a Graffinare un po' Di metalli Come dicevo È incredibile Ragazzi Veramente Questa volta Hanno fatto Un bel gioco Sono molto contento Solo che Speriamo Continuano ad aggiornarlo Con nuove idee Ho visto delle parti Che avevano in mente Così Molto beta Dove Praticamente Puoi Puoi andare In orbita Su questo pianeta Proteus 2 È bellissima Ragazzi Nell'assenza Di Gravità Veramente Cazzo Che è successo Sento la musichetta Delibile Cos'è Eccolo È molto potente La pistola Non sto usando Il mitragliatore Perché questi qua Piccoli Sono Come vedete Non ci lasciano Proprio in pace Però fortunatamente A livello iniziale Ti danno anche Un pochino Di possibilità Di spazio Per poter Fare le cose Niente Alla tua Volevo prendere Lo fanno apposta Non è che Fanno apposta Per dare possibilità Di crescere Altrimenti Se iniziano ad attaccarci Subito Come se fosse notte Non riusciremo a costruire Assolutamente niente Quindi Lo trovo Assolutamente Giusto Ok Peccato per il salvataggio Eravamo arrivati A un punto Però Tutto sommato Va bene così Perché tanto Hanno cambiato Proprio tutto Anche Il costruire Gli edifici Adesso Dà Praticamente Più Slot Più pezzi Prima veniva Tutto conglomerato In una sola cosa Io direi quasi quasi Andiamo ragazzi Ce ne andiamo Perché ce ne abbiamo 18 Sono 26 Io direi Iniziamo a Torniamo Anche se Mi fa piacere Vendere un po' di pezzi In più Perché tanto Se non sbaglio Poi la cosa successiva Subito dopo Ci serve Dell'alluminio E delle Queste del magnesio Non mi ricordo Ok Grafica Spettacolare Sembra un titolo Di AAA Ma Non lo è Insomma Sono veramente Molto Molto soddisfatto Di Questo gioco Speriamo Mi piace Mi piace giocarci Questa è la cosa Figa E spero E spero Sinceramente Che Lo aggiornino Sempre E non lo abbandonino Insomma Perché Mi piacerebbe Vederlo Crescere Tanto Anche perché C'è multiplayer Quindi figuratevi Questa è venuta fuori Del magnesio Adesso Altri pezzi Inventarlo Cos'è sto rumore Ho sentito Un rumore strano Ah quello schifo No Microscopio Avete visto Quello come era piccolino E quanto era cattivo Eh Terribile Adesso ragazzi Direi Per adesso Vabbè Va bene così Ce ne andiamo E Andiamo Subito A A costruire Il nostro Deposto Che È la parte principale Dobbiamo ricordarci Anche di salvare Subito Perché Però È un macello Un visuale così Per rumore È Veramente terribile Ma che va più veloce Quello che c'è Non è vero Avete visto Come Come è più difficile L'impostazione Dei materiali Semplicemente Con il fatto Che non vengono fuori Prima ogni colpo Droppava Praticamente un pezzo Troppo facile Troppo facile Così ti dà Proprio l'idea Di più Di Della fatica Che stai facendo Per ottenere I materiali Una progressione Molto più lenta Ma Più piacevole Mi piace molto Quest'idea Hanno fatto proprio bene Stanno sentendo molto Le Le critiche Le critiche Scusate I consigli da parte Degli utenti Questa cosa Mi piace molto Ok Direi Ritorniamo Verso La nostra Il nostro Accampamento Per adesso Veramente È un accampamento Piccolissimo Dai L'esplorazione L'esplorazione Dobbiamo ricordarci Dopo È importantissimo Vi ricordate questo strumento Per capire bene Dove siamo Le coordinate 7.6 16.8 7.6 Di longitudine E 16.6 Di latitudine Benissimo Ragazzi ci dobbiamo ricordare Perché Questi qua Visto che sono qui vicino Io li farei proprio Con grande velocità E piacere Perché Sono proprio vicinissimo Che succede? Sento Come se Stesse attaccato qualcuno Oh cavolo Merda Che cos'è quel coso Gigantesco Fatto a forma di Di bestia Oh merda No no Qui ci vuole il mitra Ragazzi 7 subito 7 7 7 Merda Ci sta massacrando Ci sta massacrando Non riesco a cambiare arma Non ho capito perché Non lo cambia Se siamo in volo Benissimo Veramente Fantastico Che dici se Ma cazzo Che stai facendo E Sì Impallato Non cambia arma Ah perché Era 6 Giusto Ecco perché Ok Direi di andare Subito pesantemente Di mitragliatore Ok L'abbiamo fritto Ma Mamma mia ragazzi Ci sta massacrando Che poi hanno attaccato Tutti contemporaneamente Veramente Molto Molto bene Direi Veramente Ok Come è andata Con quell'altro Ok Meno male Abbiamo questo Che cavolo Ok Va bene Va bene Ci siamo messi Proprio di merda Ragazzi Eh Ok Ci stavano Massacrando Ma siamo noi Che siamo Deficienti Che mettiamo i livelli Assurdi Quindi che cazzo vuoi Mugia Giustamente Allora Utility Mettiamo il nostro deposito Lo possiamo mettere Proprio di fianco Lo mettiamo qua Ok Mi piace qui Va bene Dobbiamo posare subito Le cose all'interno E poi Metteremo Anche Ok Ci siamo Ci posiamo un po' di cose Anche del robottino Perché mi sa Che è benissimo Il piccolo GR15 Ok Ok L'abbiamo sfruttato Perché poi ce ne andiamo In giro Per la mappa A capire Hanno creato Ecco Mi sono dimenticato Di dire una cosa importante Hanno anche Creato Un luogoramento Delle cose Maggiore Più significativo Quindi praticamente No 26 E 50 Quindi le cose Vanno riparate Infatti Quando vedrete Che io congedo Il robottino Se ne andrà in giro A Insomma A A cercare A riparare Le cose Volete vedere E' una figata Tutto quello che è danneggiato Allora Se io gli dico G segue Si Ma per esempio H Va e sorveglia Questa parte Ok Lui che fa parte Inizia a riparare le cose Guardate Quindi La struttura Le Ok Adesso non lo fa Lo sapevo Ho fatto una figura di merda No Vedete Sta riparando Come vedete Sta riparando Proprio La nostra base Proprio perché È diventato Tutto Si distrugge Con una frequenza Maggiore Adesso salviamo E ci si ripristina La vita Si dovrebbe ripristinare La vita Ok ragazzi Infatti siamo finiti E smesso di lampeggiare Questo mi fa stare Più tranquillo Va bene ragazzi Prima missione Durissima Devo dire Ehm Molto molto Complicata Ma Dobbiamo fare La forgia adesso E direi di farlo Alla prossima puntata La forgia È un'altra cosa Molto importante Dobbiamo fare Due di titanio Quattro di ferro Ce l'abbiamo Dobbiamo trovare Solo il plutonio Scusate No il platino Forse era Forse era Il platino Scusate Quattro di platino Va bene Con questo è veramente tutto Mugedini Vi ringrazio Vi saluto A presto E ciao ciao ragazzi Da Osiris New Dawn